Vi diamo lettura di una lettera a firma dei consiglieri comunali di Partinico Totilongo, Toticomito, Vanessa Costantino, Giuseppe Rubino, Mariella Graziano, Calogera Amoroso, Ennio Morello e Nuccio Latona. E' indirizzata al presidente del consiglio comunale di Partinico, Erasmo Bricanò. Avendo appreso in data 19 giugno 2023 che l'amministrazione comunale ha consumato ben due incontri con i sindaci del comprensorio al fine di discutere la vicenda meglio specificata in oggetto, ovvero l'inserimento nell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, del punto dibattito sulla vicenda del presidio degli uffici del giudice di pace di Partinico, un primo incontro è effettuato in data 29 febbraio 2023 e un secondo incontro in data 17 aprile 2023, ancora una volta con statiamo l'arroganza di questa amministrazione comunale che nonostante la materia sia di competenza del consiglio comunale, non ha ritenuto in questi mesi di aggiornare e coinvolgere il consiglio comunale circa le criticità riscontrate nel mantenimento degli uffici del giudice di pace. Inaccettabile risulta questo continuo mortificare quelle che sono le prerogative degli organi di indirizzo e controllo. Evidentemente al sindaco sfugge il perimetro del proprio mandato e con molta probabilità si è autoconvinto di essere una sorta di commissario prefettizio considerato che l'eventuale atto deliberativo di risoluzione della convenzione e di esclusiva competenze dell'organo consigliare si chiede alla signoria vostra di inserire apposito punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale come meglio specificato in oggetto. Nota a firma dei consiglieri comunali Totilongo, Toticomito, Vanessa Costantino, Giuseppe Rubino, Mariella Graziano, Calogero Amoroso, Ennio Amorello e Nuccio Latona.